Ciao a tutti, sono Gloria Aura Bortolini, giornalista, documentarista e conduttrice televisiva. Sono un'amica dell'Istituto Ferrari Spancaldo di Savona che considero un esempio virtuoso di didattica. Ho aderito ad alcune loro iniziative come i cicli di incontri tra studenti e professionisti ed è bello vedere nascere progetti che invitano gli studenti alla riflessione e allo scambio. Durante il lockdown è nato anche un libro, che è questo, Amore Sutura, fatto di immagini e parole degli studenti, una raccolta di riflessioni e pensieri sul periodo che abbiamo vissuto ma anche di speranza sul futuro. È un bellissimo libro ed un grande lavoro di squadra. Complimenti a tutti e avanti sempre. Ciao da Gloria Aura Bortolini.